Sono tornato perché dopo aver parlato con il coach e conoscendo già la piazza per me è un piacere ritornare qua e come ho detto già tante volte Pesaro la considero ormai come una casa. Oltre l'aspetto del basket c'è anche il benessere personale, le amicizie, tutta l'atmosfera anche extra basket. È stato un connubio di tutte queste emozioni che mi ha fatto anche firmare qua. Poi ovviamente lo stimolo, l'ambizione di quest'anno è molto alta e il progetto e tutto quanto mi hanno fatto ritornare a Pesaro. Tanta energia vicino al ferro, di fare quello che io so fare meglio per carità e di cercare di far gruppo perché alla fine l'importante all'inizio della stagione è questo, far gruppo, cercare di amalgamarsi al meglio e far circolare tanto la palla, far muovere la palla, cercare di far entrare tutti in campo comodi con quello che ognuno di noi sa fare. Quindi adesso noi ci stiamo allenando, ci stiamo allenando bene, cerchiamo di fare questo. Io ho tanti ricordi, poi ce ne sono di belli, ce ne sono di meno belli, ci sono anni in cui abbiamo combattuto di più, anni in cui combattuto nel senso salvezza, anni in cui abbiamo raggiunto i playoff, quindi è logico che preferisco delle stagioni piuttosto che altre. Però io di Pesaro ho sempre un bel ricordo perché, ripeto, qua ci vivo benissimo, sto benissimo, sia in campo che fuori dal campo. E questo credo che sia una cosa molto rara, l'affezionarsi proprio alla città anche, quindi questo, dai, il ricordo più bello è questo. Il mio ruolo sarà prettamente da cinque, poi posso sicuramente andare anche nel ruolo di quattro. Siamo un reparto lunghi che possono intercambiarsi a vicenda, giocare spesso insieme, quindi siccome sarà un campionato molto divertente, vedo duro, sicuramente duro perché sono tantissime realtà storiche, formazioni importanti come la nostra, come Cantù, come Brindisi, come Udine. Sarà molto divertente, dai. Ci stiamo allenando tutti bene, tanto e bene. Poi, ovvio, adesso siamo tutti un po' acciaccati e stanchi, nonostante per la preparazione, ma come tutte le altre squadre, alla fine la preparazione è questa, è il momento più duro della stagione, quindi bisogna farsene una ragione per questo.